E' un bel maschio per muro! Hai visto che bel maschio alfa? Finalmente! E' un maschio che dici? E' beh, e' beh, e' beh, dai! Finalmente iniziamo ad avere un bel parterre di manchi! Perché scarseggiavamo con i maschi alfa? No, ce n'era uno però! Uno? Alla fase di pay watch comunque qua eh! Si è, guarda come arriva eh! E' la musichetta in sito! Ragazzi siamo pronti! Ad accogliere! Ma le ragazze lo stanno guardando! Eccolo qui! Vi presento! Care Purignos! Andrea Cerioli! Eeeh! Ma che gatto! Eh vabbè! Capirai! Due spaghetti era meglio! Bello mangiato lui! Cioè ragazze mi sentite eh? Guarda Vera! Vera! Vieni qua vicino a me! Vera! Cioè Vera è primavera no? Cioè guarda che regalino! Ascoltate un attimo! Allora io ho portato una rete che immagino che sia molto più utile rispetto a un mazzo di fiori ma mi sembrava carino! Ma sono comestibili dicono loro! Non lo so! Ormai sono fritti perché due ore che sono sotto il sole però... Sono contento di essere qui! Fa il petto vedervi! Andrea benvenuto! Benvenuto all'isola dei famosi Andrea! Ti ok, grazie a due a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.